Oggi presentiamo la testimonial della campagna sensibilizzazione alla donazione del sangue Avis Comunale 2022. La nostra concittadina Vladimir Luxuria è davvero un onore per noi poterla presentare oggi che è il compleanno dell'Avis Comunale di Foggia, oggi compiamo 52 anni. Se non ricordi quali sono le tue radici, poi alla prima colpo di vento ti abbatti, quindi bisogna avere delle radici ben salde, le mie radici sono qui a Foggia. C'è una frase bellissima di un'opera di Tennessee Williams, di un tram chiamato Desiderio, che dice Ho sempre apprezzato la bontà di uno sconosciuto. Ecco, pensare che ci possa essere qualcuno che tu non conosci, che ha donato del sangue, che grazie a questa donazione ti ha salvato la vita, è qualcosa di bello. E lo può fare tutti, ovviamente. Tutti possono donare il sangue. Ovviamente chi fa questo dono deve essere ben consapevole dei suoi comportamenti per donare il sangue, ma non c'è limite alla bontà. È un piacere per me cogliere l'occasione per ringraziare tutti i donatori che in questi 52 anni di donazioni hanno ancora più confermato che la città di Foggia è in questo, primeggia su tutte. Dona sangue, colora la tua vita, sin da me.